Allora, Santino Federic, che è importantissimo, è molto importante, eccoci, poi controller, ma da quando lo hai? Cosa? Il Santino Federic? Ma quindi mi puoi mettere come alert? No. E' Sandro Quarto, è Sandro Quarto, ok? E' la run di Sandro Quarto. Eh, le cose giuste, raga, Sandro Quarto. Comunque, 1050 punti tra 11 sub. Spoiler del regalo o VIP o mod. Spoilerino. Un indizietto tra 11 punti. Ah, intanto devo mettere una playlist bellissima per quando facciamo Pokémon. Dove, dove, dove? Questa. Ok, andiamo. Allora, andami un attimo, devo setappare tutto, ragazzi. Ah no, che si è fatto? Allora. Ok, let's go. Dov'è? Mettiamo subito qua. Pokémon. Pokémon. Allora. Ok. Ragazzi, la KitCraft la facciamo il lunedì e il venerdì. Questa settimana l'ho fatto anche il mercoledì, però, perché c'era i progetti in mezzo che era veramente cicciotto come progetto. Allora, raga. Aspettate, c'è il controller. Ci siamo. Vi è piaciuta quindi la prova a non ridere? Comunque non c'è la prova a non ridere dove io non casco dalla sedia, non può essere. Ok. 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 Allora, ragazzuoli, ando a aprire anche la mappetta. Ma me l'ha preso il salvatore? Ma sì, ho aperto... Ho aperto Maps. Allora, noi non siamo messi benissimo, ok? Perché abbiamo il nostro... Caro Sandro, che è... Diciamo, con un piedino nella fossa per via dalla para. Ha la paralisi ed è un problema. Quindi... Non so se... Rischiarla... O... Fuggire. Visto che ci mancano sei allenatori con... Un poco di Pokémon. Io mi sa... Quanti allenatori mancano? Eh, volevo vedere proprio questo. Un momento. Perché io ne ho fatti un paio per sbaglio, eh. Allora, di per sé mancano. Vediamo se è giusto. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei allenatori. E sono... Quattro. Sette. Dieci. Undici. Tredici. Sono tredici Pokémon. Sono tredici Pokémon, raga. Abbiamo una super pozione. Tredici Pokémon. Allora, però vi dico una cosa, eh. Sono rimasti soltanto due allenatori con i Pokémon a livello 20, eh. Tutti il resto sono allenatori di Pokémon a livello 17. Cioè, anche con la para forse non siamo così lenti. Capito? Quindi non lo so. Vi lascio un attimo ragionare a voi in chat. Un secondo ragazzi dovete scappare in bagno. Arrivo subitissimo. Vi lascio un attimo ragionare. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti oppure no e quella la cosa o li faccio tutti oppure no quindi io farei una cosa perché comunque allora abbiamo comunque 82 esperienze abbiamo 82 hp e abbiamo anche una cura ok il problema è sta cazzo di paralisi io ora voglio un attimo vedere se mi sponono gli oggetti perché mi basterebbe ragazzi qua sotto l'oggetto sponato qua già l'abbiamo preso è quello il problema ma è fatto che non mi sponeranno mai e dovrei correre ci posso correre così tanto anche se sono i i selvatici raga cioè però pesa c'è un po un po me ma mi sa che c'è il tracker che è fermo raga aspettate no c'è il tracker che è bloccato è vero un attimo si è riavviato ok eh ma non ho tutti questi repellenti raga è quello il problema no cristo sa e gg minchia tre po e vabbè trollata trollata mi scliccato mi scliccato minchia però pure con la con la sabbia che pall no siamo troppo lenti raga non ha senso siamo veramente troppo lenti sono più veloci tutti gli altri no 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 raga usciamo usciamo e via mannaggia sta para andiamo via fuori dalle balle qua aspetta c'erano degli oggetti però l'ho preso no raga usciamo usciamo non rischiamo non rischiamo non dobbiamo rischiare allora l'unico è questo ok usciamo ragazzi non rischiamo e via dai e sti cazzi dai fuori ci diamo sti punti del monte luna non l'abbiamo fatto al cento per cento e mo troviamo qui la cura ah no master ball ok no perchè sono tra la reperenza stupido c'è sto berry ma è proprio quella berry ah no wake up ok and your allora ci andiamo subito a curare e via abbiamo il rivale adesso raga abbiamo per forza di cose il rivale che cazzo l'ora sta ogni volta max potion buona 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 ok rivalino mamma mia però eh ti sparerà option e via chi aveva ursaring con return è qui raga kaizo moment rip sandro quarto kaizo moment questa raga pochi cazzi e niente sandro ci saluta già subito così va bene troviamo adesso un altro tranquilli dai ecco revenge non ci puoi fare nulla zero only one shot only one shot in quel caso oh no oh no il nostro killer no raga di nuovo oh però siamo di nuovo contro il nostro killer no è tornato è tornato micchia aeroblast però stab il bro oh ma sto ninja scherzo micchia non c'è niente di attacco no raga non gli facciamo nulla eh vabbè dai pure la para ci ha messo in mezzo eh vabbè rip jump e rischi no facciamo meno danno vedi era meglio aeroblast stab era 150 di base on peccato 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 no siamo contro eh vabb oh mio dio oh mio dio raga e mo che si fa qui e mo si suca appunto abbiamo sucato parecchio mamma mia mamma mia ma zunna cara che schifo raga dai abbiamo altre 40 run no cavolo va bene va bene dai le mosse oh le mosse eh un po eh fire punch per forza oddio farei prima un po' i song gas quasi quasi prima un po' i song gas e poi il fire punch però non c'è special attack 17 dovremmo shottarlo bro io ti shotto non mi shott eh eh sto cazzo eh appunto minca sanflora bella sta difesa stomp vabbè dai sì va bene almeno siamo fuori dai 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 oh ogni due lab si esce fuori eh incredibile oh ti stai fermo peccato raga revenge vendetta e purtroppo questo qui è successo perché non abbiamo fatto gli altri non abbiamo neanche livellato se no potenzialmente avevamo un po' più di attacco e forse lo vado anche a shottare eh repeat ball siamo fuori siamo fuori raga dai ah c'è armillion it mon chan no no ci ha fatto wrap no bro cattura facilitata cattura facilitata e non si poteva ne uscire ne un cazzo minchia aveva sky up per cat stab in quel caso cioè io dovrei lanciare prima tutte le palle e poi potrei ammazzarlo il problema che è mi piace come scriviamo sempre determinati pokemon eh oh swarm che merda però abbiamo tailglow e blast barn oddio premiamo il blast barn adesso madonna non gli abbiamo fatto nulla nulla niente ma ho fatto già tailglow signor banana sostituto ah si ma sostituto guarda che non fai molto non fai nulla con sostituto mi tolgo metà hp a prescindere e i due turni di tailglow mi sono costati meno del sostituto mi sono costati proprio meno del sostituto meno di metà hp perché ne ho fatti tre mi ha tolto due hp a botta però avere blast barn che devi perdi due turni fa poco e non c'è morto pure ragazzi con 6 per di cosa c'è un bot attacco speciale e ne è morto il bastardo eccoci con static vabbè madonna che non è lento eh spark allora mi faccio andando un protect ok a double team il bastardo spark madonna io io non lo tirerò mai giù non lo tirerò mai giù devo sparargli prima lo smog nella speranza che gli entra gli entra il coso il 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 veleno oh mio dio ti prego entra il veleno dai il 40% ok ok allora io adesso dovevo fare uno spark e un protect devo sperare che non faccia però luster purge però ci ammazza se fa luster purge siamo morti niente devo tentare per forza un altro protect eh niente c'era pure il crash claw quindi peccato peccato eh non già li ho fatti due prockets li ho fatti li ho fatti infatti ha failato purtroppo non puoi fare all'infinito anche se siamo al lab perché anche se dici c'è la cure si proprio non va o no slugma con trace con trace ok allora niente andiamo così fa rock slide è fine oh più velo madonna mamma mia ma cos'è oggi eh sentino federic facciamo qualcosa oh se non faccio 4k punti col cacchio che shopy box 4k punti o pietre siamo seri da energy power volpix dai bello abbiamo almeno slack off allora se i go boost probabilmente ci abbassa lo special esatto noi non faremo più danno ma vabbè ma che cazzo ci pensa ma che ci penso a fare io raga cosa ci penso a fare a queste cose allora questa la mi chiamo aga che sta per a agadere avremo un trico contro un raticate e una pozione cina minchia che self-destruct allora il problema è che è la difesa normale targets defense e noi abbiamo tanto spark redicate con fireblast ok è lì era da portarselo nella tomba si sono d'accordo raga qua serve il tiff in chat io ancora sto pensando ragazzi al revenge di prima oh cavolo pikachu 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 allora intanto vi faccio un bel attract siamo morti ok e adesso ragazzi noi dobbiamo sperare in un roll alto di magnitudo oppure twin needle nella speranza del 20% di poi suonarlo prima proviamo un twin needle ma siamo morti no dobbiamo provare in magnitudo alto perché dobbiamo farlo o one hit ko o suka 8 non è rip vabbè oddio oddio ok ti prego devi girarmi un altro magnitudo alto godo no ci ha fatto luster purge niente mi chiamo z t spazi 4 spazi t lui si chiama ok direttamente green una full restore attenzione no 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 oddio flash fire ma perché ce la posso fare eh qua si fa di oltraggio è l'unica siamo morti oddio eh riperoni il problema è che pure con oltraggio manco potremmo curarci oh hanno sempre delle mosse assurde eh allora comunque noi meno male ogni due tre la busciamo qui dovremmo uscire eh no c'è pallina rosa siamo wabafett wabafett con extreme speed e aurora beam allora io intanto ti faccio per forza un extreme speed non ho un attacco speciale madonna dragon eh vabbè vaffanculo però dragon rage meno 40 hp di base noi ne avevamo 22 e si resetta si ritorna all'hub andiamo all'hub eh raga un pochino di sfiga ma secondo me perché non siamo a 1050 punti secondo me a 1050 punti ritroviamo un altro sandro eh ma nonno quanto è lento trai veramente brutti molto brutti allora allora si possiamo fare fake out che lo facciamo flinciare all'inizio e poi via riflincia e ora si va di di over it nella speranza di fargli male siamo morti aeroblast 2x GG si no lei sta iniziando a capire ormai di poco ma sta capendo la roba dei try il 2x e tutto quanto incredibile raga c'è la mia ragazza infatti a me che è stupida ma impara lei si mette lì guarda e impara mi dai uno snorlax o no frizzy plant con giorno di sole allora non gli facciamo un poison gas è andato e questo va via poi un frizzy plant il problema è che con giorno di sole no non si può fare ho di altruante no no frate però crash clon non mi piace crash clon non mi piace per nulla mi devo farti per forza frizzy plant mannaggia niente 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 raga purtroppo non si esce dal lab 30 gli ultimi 30 try dalla settimana pipino max me lo do subito no raga è tornato è tornato è tornato oh però almeno è decente oh su 2 stocks comunque è decente non me lo ammazzare oh 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 non c'ho attacco però matto siamo fuori allevitate raga allevitate peccato che non ci fa un cazzo para 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 kum una ultra bolla ok allora raga io non so se questo duxox ci crede oppure no non so se ci credo o meno con dei carbos sarebbe quasi da trastare però l'attacco minchia abbiamo mezza mossa allora io prima però ragazzi voglio un attimo comunque permettetemi di scautare devo devo sono moralmente obbligato vabbè qua è sostanto lui io devo sperare una mossa speciale si è sweet dreams prendi per una volta qualche pokemon carino no a meno che non hanno delle robe assurde no no kum va il plum toki pi ciao allora in realtà si potrà stare per la sfida di brock raga ma ce la faremo io ci credo 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 Però qua che... Ah, sto bro che cazzo gli faccio Per forza Sky Attack O Mirror Move Un Mirror Move Icy Wind Minchia fa 55 Però io abbassa la velocità Mi piace Potremmo attaccare dopo per primi Cazzo Ok Ci ha tolto 11 Lui ci ha fatto Shadow Punch Se ci fa di uno Shadow Punch Faccio Mirror Move Ok Godo, Godo, Godo Godo Perfetto Vai, vai al 10 Dammi la mossa No Cazzo Ok Ok, 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 ok Allora Si può provare C'è Intimidate Ci ha abbassato l'attacco normale Shadow Punch Dovrebbe ricordarsi Dovrebbe ricordarsi Shadow Punch Ancora, no? Eh no Sto cazzo Cacchio No, non Ho sedia attacco Cosa conviene? Ok Ci farà sky attack Ma noi siamo più veloci L'ammazziamo Ok Oddio Ok 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 Bro io ci sto credendo 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 Bro minchia Poteva essere Thunderbolt Io ci sto credendo Però ragazzi Andiamo a curarci Io ci sto credendo Abbiamo delle buone difese Comunque E ancora abbiamo una cura Io ci sto credendo Dai Minchia Entrami Thunder Entra Entra Oddio 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 Ok 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 Dagli Carboss Ma già gliel'ho dati Carboss Gliel'ho già dati Carboss Qui Icy Wind È l'unica Icy Wind Abbiamo missato Icy Wind Ok E Icy Wind Bene 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 Altra mossa Eh raga C'è un problema Dynamic punch Interessante Però Mirror Move Può salvarci Il culo Secondo me Mirror Move Può salvarci Il culo E sto 50% A noi Non entrerà Mai Ma mai Ma mai nella vita Entrerà sto 50% Ma ti pare Già Già abbiamo messo il 95 Immagina Insatto Immagina il 50% Spunta il messaggio di testo E fa Bro ma seriamente l'hai fatto Ma hai capito come si è messo Proprio scritto sotto Dice Eh Suka Suka Attaccate sto cazzo Faccio una cosa un attimo Perché lui c'ha tre pokermons Firestone Soft sand Immaginate se adesso spunta un Eevee Sarebbe veramente tipo Wow Bene Preghiamo Thunder Non mi failare Per favore Cucciolo Godo Minchia pure paralizzato Ci ha fatto karate chop E mo' ha fatto roleplay però Fatto roleplay Non voglio usare un altro Thunder Sinceramente Perché ho paura che Che feila Perché se feila Che cazzo ci becchiamo Usare un'altra mossa No roleplay Inverte Le abilità Però Ha un sacco di Special defense Il bro Eh Thunder Eh ok è andato È andato Buono Buono Era l'unica Sono due turni Di AC Wind Potenzialmente Dite che entrerà Il terzo Thunder Di fila Entra Lui ci crede Eccoci Ma ti pareva Ma ti Eh ma il quarto Thunder Non entrerà mai Bro Oh no Non ci ha fatto niente Minchia Gli è entrato Il quinto Thunder Ok Sei confuso Hittati No Non fare Detect Hittati Eh dai Vaffanculo Dammi un botto Di esperienza Mamma mia Raga I tre Pigliamosche Fatti Ok Serve una Buona mossa Al 17 Serve Una bella Mossa Al posto Di Sky Attack Ma io l'ho fatto L'uscita Dalle lab È vero Sì Che fanno Sì Lo so Lo so Una mossa Che si cura Qualcosa del genere Mi remove E poi copiarla Ok 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 Io Badi e te Al Fanta Forza Gianni Non ti deludo Non ti deludo Bro Non ti deludo Tranquillo Io non ho mai deluso Oh Scorsa settimana Ho fatto quasi tutte le skill Io Eh Purtroppo Un poco di sfiga Però Quella c'è sempre Eh Devebbe entrare il thunder Di nuovo Mi padre No Non tittare Non tittare No No Dai 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 No Eh vabbè Però ragazzi Si sta da solo Mega drain Non Beh oddio Potrei Potrei fargli Mirror move Però ci ho aumentato L'attacco Ci ho aumentato L'attacco Dai Godo Si stavo pensando Già stavo pensando Di fare Il mirror move Per il mega drain Una bella cura Me la dai Cucciolo No Peccato per le precisione Delle nostre mosse Minchia Potrebbe essere un thunderbolt Dai Eh Regà Io do andare di thunder Cioè Non posso fare molto Godo È entrato Dammi una buona mossa Reversal Reversal Precisione 100 Meno HP abbiamo Più danno fa Fa più o mai Se hai poca vita Sì 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 100% di accuracy Me la do un attimo Cercare nel tracker Un secondo Perché qua il tracker Mi dà Il Coso preciso Allora Importa the breakpoints 80 power A 35% Or lower E 150 Al 10% O Di meno Però Non si sa Sime fisica Eh lo so Ma anche Sky attack Sky attack Dobbiamo aspettare due turni Sky attack Per me è come se fosse 70 eh No Mirror move Non voglio toglierla Mirror move Infatti Io vorrei togliere Sky attack Potenzialmente Però sky attack Se ti entra So 140 Anche se Non lo so Il fatto è questo Hai tanta difesa Esatto Ma non abbiamo cure Potenzialmente Se arriviamo da Brock Quello che ci fate È che avremo No vabbè in caso abbiamo sempre Mirror move Raga Quindi No lasciamo sky attack Dai Sì lasciamo sky attack Abbiamo ancora Appunto Buono Il victory bell Il victory bell Però ecco Se faccio Mirror move Ora non ci prende più Il fire blast Eh un icy I fa malino Eh Minchia c'è Drop ompel bro Dai basta Ok Dai 18 Purtroppo Sto icy Allora con le mosse Non siamo messi benissimo Eh Cioè le mosse Fanno proprio cacare Raga Tanner l'unica decente Poi vabbè Mirror move Al 20 Non ci arriviamo Mi sa al 20 Eh io devo fare Icy wind Qua per forza Ma me la devo Cioè È abbastanza inutile Fare i mirror move Eh Abbastanza inutile Però La facciamo lo stesso Eh E E E qui raga Sky attack Qua sky attack Eh sky attaccato Dai Abbiamo un bot Raga abbiamo un bot Di difesa Però raga Non lo so Non lo so Cioè Non ci Non ci credo io Anche difesa speciale No no ma siamo Cioè allora A meno che non ci fanno Cioè ragazzi Ci ha fatto Sacred fire Non ci ha fatto Chissà quanto male Eh Dove arriva Arriva Ma già ci ha fatto Sognare abbastanza Eh Questo dustox Altra curetta Raga Bettina 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 al volo Per brocchino Faccio Bettina per brocchino Ah Già c'è Già l'hanno fatta Già l'hanno fatta Raga Andate 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 Pronosticate Votate Votate Con dustox Minchia Aver saluto ragazzi Veramente Ve lo giuro Un po' di special Ma anche a posto di Easy Wind Un'altra mossa Che comunque Faceva tanto danno Un 70 Per esempio Però mirror move Comunque Non male Mirror move Ci potrebbe salvare il culo Ragazzi Non possiamo essere avvelenati Abbiamo anche Levitate Quindi Va bene Abbiamo un sacco di difesa Abbiamo poi Il fatto del poison Non si può essere avvelenati Quindi Io Cioè Ci credo Ci credo Un pochettino Ci credo Domanda Abbiamo ragazzi Un PP Max Vedere prima Come va con l'allenatore Di Brock E poi vediamo A chi darlo Sinceramente Intanto Un Salvettino Vediamo prima Come va con l'allenatore Perché Dovremmo arrivare al 20 Con l'allenatore Di Brock Per quello E quindi Potremmo imparare un'altra mossa Che io spero Verrà Ai arcatroia Tipo Un Un geloraggio Un geloraggio Un Cazzo ne so Un blade kick Una di quelle mosse Un po' Così Capito Perché purtroppo Thunder con 70% Di accuracy Non va bene Non va bene Allora Grande Kakuna Mi tocca Farti uno sky attack Però Devo stare fermo Un turno E quindi Mi piglio Un tuo attacco Però è per 2 Sono 2,80 Ti shot Shottato Al bro Gli devo fare Thunder Thunder Ti prego Thunder Entra Non cagare il cazzo Entra Eccoci qua Ma ci paralizza No raga Eh vabbè però Ok No No Ma questo No Questo è ingiusto Ragazzi Questo è ingiusto Questo è ingiusto Però Questo è ingiusto Questo non va bene Questo non va bene Ne vedo Per No raga Non faccio Il band della voce Devo Devo battere Mi dispiace Mattia A parte Mattia Dove sei Mattia Cioè io devo fare Il regalo Ai VIP Ma ti devo considerare Anche la VIP Sei sparito Mattia Sei sparito Forse non c'è Neanche più la sub Mattia Cioè Mattia Dove sei finito Mattia Lo faccio dopo Brock Se vinciamo Brock No ma non ti devi Scusare Per carità Beviamo Beviamo PP Max Su Sky Attack Abbiamo anche Mirror Move Comunque Allora Se devo usare Un PP Max Non lo userei Su Sky Attack Ma su Thunder Capito Lo userei Su Thunder Sarebbe da fare Su Thunder Raga Infatti lo faccio Su Thunder No se passo No se passo Dovrei fare un Thunder Chiellini Dovrei fare un Thunder Devo provare a shottarlo Ma entrerà A Thunder No No È una mossa di merda Potrei anche curarmi Tenterei quasi la cura Cura in tu Thunder Minchia ma ci ha fatto Esso male Ci ha fatto il critico No raga Eh vabbè Camouflage Però che cazzo Due Thunder Eh no Eh vabbè Raga Eh vabbè Eh Cristo Dio Però No no Non lo uso più Non lo uso più No Raga Gli faccio easy wind Vaffanculo Cioè gli faccio easy wind No raga Ha fatto camouflage Non posso fare mirror Cioè Non ha senso È tipo normale Adesso Infatti È tipo normale Adesso Perché non mi entra una mossa Nessuna mossa Raga Quattro Thunder E un easy wind Non sono entrati No raga C'è un problema E pensa raga Ma Infatti Adesso È tipo normale C'è No C'è un problema Di fondo Perché non mi sta entrando Sei mosse Di fila No raga No 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 C'è qualcosa No non ha senso No raga Non ha senso Non capito cosa è successo Che non mi entrano nelle mosse Non mi sono entrate Sette mosse Di fila Ma non può essere Non sono entrate No ragazzi C'è qualcosa Oggi ci siamo persi Qualcosa di strano Ma non può essere Non sono entrate Sette mosse Di fila Sette mosse Di fila Come può essere No raga Guardate che Sette mosse Di fila No C'è Beccare il 30% Raga Per sette volte Di fila Fatevi il calcolo È una roba assurda No Non la riprovo La battaglia C'è Non ha senso Scusate Io voglio riprovare D'ammazzare Brock Scusatemi C'è Tanto adesso Entra al primo Al primo botta Coso Però non ha senso Raga No vedete C'è qualcosa Che non quadra Ora è entrato Va bene Però Di nuovo Vabbè Va bene No sense No sense Ti avete solo sfigato Fatti il calcolo E poi mi dici Se sfigo o meno Dai Pochettino Presa per il culo Mi sembra Raga Beccare il 30% Per 8 volte Di fila Va bene Tutto Però Allora Con i bro Che gli facciamo Un aeroblast Un aeroblast Perché se no Esatto Scusate Non fa niente Aeroblast Speriamo In tutto Per favore Bello Bello E chi cazzo Lo tira giù questo Dobbiamo sperare Che Lo Lo facciamo Lo facciamo Roteare Un pochettino Sto pokemon Di entrare il critico Ne siamo morti Mi sa Mamma mia Che difesa aveva Di essere abbonato Carro Raga Comunque assurdo Ce l'avrebbe fatta Se entrava la prima botta Veramente Ma in realtà Non mi sa di no Però Diciamo Mi ha ucciso St'ultima run Ha fatto girare Veramente i coglioni Devo dire Ok Mo ti tira sempre Da solo Mo devi Tirti sempre Da solo Lo sai vero Sempre si fa Di Dinamic E via Itati Ok Vai Itati Godo Ora Secondo voi Ora Secondo voi Ci hitterà Vero Ora Gli entrerà Il blizzard Regà Eh no Che senso Ha fare i payday Tanto entra per forza È morti Ma non Missa All'hub Signor banana Mica Non si Missa All'hub Missa Soltanto Il nemico Citta 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 Esattamente Oh no Vai Compress Oh Pedal dance Stub E soft Boiled Dai Dai Abbiamo una proteina Bello Bello No 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 Però Non mi ricordo Se l'ha bannato Si può usare Nel lab Ma infatti Ho fatto soft Boiled Perché Almeno lo attaccavo E capivano Anche Mi attaccavo Mi curavo Madonna No No dai Oh mio dio Gli faccio subito Gli devo fare Il sacred fire Subito Ma potremmo Beccarcelo noi Quello Allora No No Vai Va bene Con rose skin Dragon rage Godo Oh Pure bono Sousa ring Si Come lo chiamiamo Come si chiama Lo chiamiamo Lo chiamiamo Vladimir Vladimir Lo chiamiamo Ladi Ok Non ha Non ha senso Usare adesso ragazzi L'hp app Sinceramente Anche perché Prende Molti hp Appunto Conversion 2 Conversion 2 Ah figo Carino Come cosa Ma ragazzi C'ha Hyper beam Stab Cioè Però Ha fatto caso Ha wrap E poi Fury swipes Eh Toglierei wrap A sto punto Oh Conversion 2 Toglierei Conversion 2 Tanto Chi cazzo Lo utilizza Ragazzi Sembra 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 Forte Ma chi minchia La utilizza Ti metti La In fatto Conversion 2 No Chi cazzo La utilizza Sinceramente Qualche Stabina Io Me lo tengo Ma tanto Troveremo Snorlax Nell'erba Guarda Qualche Pokémon P Guarda Te lo dico Eccolo No Abbiamo ragazzi Dragon Rage Cioè Non Non ha Senso Non ha Sì Mi fai muovere Però Sì Sfuriate È interessante Anche Perché Comunque Fa 27 Quindi Già Sono 54 Di A hit Non è male Perché Ne fa Da 2 A 5 Calcium Interessante Ma vediamo Di darglielo Eccolo Qua Pisellone Golbat La carta Già L'abbiamo Fatta No L'abbiamo Fatta La carta De Golbat Non mi ricordo Controlliamo Mi chiamo Quanto Quanto non mi piace Quanto non mi piace Questa decima posizione Ragazzi Quanto non mi piace Allora I golbat Mi sai L'abbiamo Fatta Vero Invece No Non c'è la roba Di evolvere Un golbat Lo so Dimenti No No Eh golbat Col 505 Più Di BST 100 Punti Però 505 Più E che cacchio Deve diventare Scusi Altaria Venusaur Charizard Questi qua Eh ma Eh lo so Dragon Rage Su Ursaring È una run Tranquilla Diciamo No Non lo so Rega Non Sarebbe croccante Come roba Farle evolvere Eccetera Però è un buon Ursaring Questo È veramente Un buon Ursaring Eh esatto Anche perché Già battendo Brock Ragazzi Se riusciamo a battere Brock Già sono 80 punti Upgrades No mi tengo No mi tengo l'orso Gli devo dare Prima il calcium Io aumento Lo special attack Che ci piace HP up No Non gli toccerei Tanto gli HP Raga Sinceramente Non gli toccerei Più di tanto Perché Potenzialmente Arriva il livello 8 Cioè andiamo a togliere Roba dall'altra parte Non mi va Ok Cioè raga È comunque Garantito I primi cosi Ecco Qua Dragon Rage Orco Dio Eccoci qua Fatto DHP Grasce bene DHP Grasce bene Raga DHP Grasce bene Comunque Salve Io sono l'avvocato Angelo Greco E questa È la legge Va bene Va bene Va benissimo Eh raga Cioè Tiriamo Tranquilli Cioè È una mossa sicura Veramente Eh vabbè Però porca puttana Dai Bro Cazzo La cosa brutta Non mi piace Sono le percentuali Dagli altri Però vabbè Dai È una mossa sicura No Moonlight Moonlight Shadow E niente Dai Vamos Il saluto a Eme Buonanotte a tutti Dai Ciao Mattia Poi Ti spiego Quella robetta Lì del regalo Perché tu Doveresti essere Uno nella lista Anche Anche se Non lo so Non lo so Però sì Allora Dov'è Ok C'è la fine Con Dragon Rage Te li fai tutti Tranquillamente Piglia Mosca Vabbè Eh Ok Dammi tanta esperienza Bene Sì Si si One shot No Certo Ovvio 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 Che li one shot Contiamo con Dragon Rage Ah Va che bello No Golbat Veramente Io ti avrei quasi catturato Perché mi piace il gambling Veramente Mi piace il rischio Però so Che comunque Essendo una carta Unica in tutta la pill Ti posso ottenere In qualsiasi altro momento Eh Lui non rimarrà vivo Mi sa Però E invece sì Cioè invece no Invece no Basta Mi arriva sto bazooka In faccia Ogni volta Una curetta Una bacchina Un repellente Aspettami curo dai E quella curetta tattica Che serve per forza Raga Senza quella Non si fa niente Doll Perfetto 17 Buono sto attacco Buono buono Che cresci in attacco Normale anche Dai Pulito Pulito Il problema adesso Contro Brock Non sarà Cioè Contro Brock Sono due Dragon Rage Avrebbe senso Adesso puoi pensare Ad essere anche le altre mosse Naturalmente Sperando al 19 Di imparare un'altra mossa Perché comunque Le altre Non è che Mi ispiriamo più di tanto Una sia Hyper Beam Se dici Voglio shottarlo subito Sto poma Ma poi ranno dopo Ah con extreme speed Però abbiamo Rough skin Che è buono Pulito Pulito Raga pulitissimo Ah ecco Raga non ve l'ho detto Domenica Riapre la one block Non me lo so Dimenticato Scusate Riapre questa Domenica pomeriggio Verso Le tre Le tre Le quattro Eh mi sono dimenticato Di dirvelo Scusate Me l'hanno fatto sapere Oggi Che aspettavo Conferma da parte Loro Mi ha detto Tranquillo Domenica riapre Con novità Un sacco di fixini Brocchino Mi sono una banana Mi sa che si è addormentato Quindi Lo facciamo La facciamo noi Questa Bettina Raga Bettate Faremo fuori Brock Ma Tanta roba Tanta roba Tanta roba Tanta roba Bastanza scabrosa Come cosa Va bene lord Sì Se Se signor banana Si è addormentato Sì Eh purtroppo La sua età È solo le undici Di solito La sua età Dopo le nove Lettuccio Ciao emerald Già che mi scrive senza H Galdi È un problema Ma tu facevi video su Minecraft Qualche anno fa Io faccio tuttora video su Minecraft E il mio main content Su Youtube Ogni tanto vario E soprattutto in streaming Perché La mia vita Non è soltanto a cubetti Raga La Bettina è stata fatta Guardami un secondo E Ci sos Ok Si può giocare anche da Bedrock Yes Ho salvato No risalvo Dai Stai facendo la Kaizo Yes Eh Due Dragon Rage Mi sa Vado Tranquillo Per forza Cioè Se no mi tocca Veramente Fare gli fuori Swipes Va bene Dai Dammi Dammi una mossa Hidden Power Ok Oddio Un'altra stab Eh raga Vrap lo togliamo Raga Ah non è Non è detto che sia Stub o meno Questo Hyper Beam Perfetto Hyper Beam Ottima mossa per chiudere La battaglia Dipende se Rimane normale E a capirlo Non si sa Ah il prossimo Balena sta facendo Una roba di Hogwarts Poi lo farò anch'io Raga Allora Raga Sbroccolo Non ho nessun oggetto Che posso dare A sto povero Cristo No Deve essere Sei clean Eh ma Vediamo qua che succe Dai Minchia Minchia Fare Hidden Power Raga La cosa che mi preoccupa È se tipo Ci spunto un pedal dance Quelle robe lì Che ti fanno confondere Si dovrebbe testare Off No io vado sempre Di Dragon Rage Per ora Cazzo Pesante Eppure più veloce Mi devo curare Incredibile Madonna Ma ce l'ha proprio tutti Raga Tutti Il problema è che c'è La potion Abbiamo solo la potion C'è una mossa assurda Per forza Anche perché se c'è la mossa Che mi killa Mi killa A prescindere Non lo posso Non l'ho Una shot Eh vabbè Dai ma tutte le mosse Bro Bro Preghiamo Tu ti è mossa Anche da non contatto Che c'ho Raw skin Mi chiamava meno di 40 HP Su accesso Eh tu non ce l'avrai Meno di 40 HP Bro Sì ma raga Ma che cazzo è Che non posso usare Manco una stab Cioè ma può essere Cioè Allora Eh a regola Cioè dovrei fare sì Un hyper beam Potenzialmente Ok Però Dopo mi tocca ricaricare L'unica è sempre Fai Dragon Rage Madonna Però non Non ci muore Shackle Ci prendiamo un hit E se questo qui c'è Un'altra mossa Idio psico C'è Eh ma non so cos'è Aiden Power Non so cosa potrebbe essere Vediamo Che roll potrebbe capire Di Aiden Power Il tipo può essere Un qualsi Uno qualsiasi Eccetto normale Perciò I pokemon Di tipo normale Sono gli unici A non poter ricevere Mai Il bonus Per il tipo Insomma E niente Ragazzi Cioè Allora O rischiamo L'Aiden Power Ok Se rimaniamo vivi Dragon Rage Dopo Oppure Veo sperare Questo Shackle Non abbia HP No 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 Regavo No regavo Ma Cristo Un altro tipo Ci rendete conto Un altro Psy Beam Quanto è rimasto Raga Un HP Un HP Sono scriptate Presente scriptate Tre mostri Di tipo ragazzi Appunto Psico Che Con Raw Skin Non hanno Niente Zero Scriptate Presente scriptate Cioè lo script Della Kaizo Incredibile Tre di tipo Roccia Con tre di Sì Assurdo Eh però La cosa Non la porto più Perché sto facendo La Kaizo Bastava una cura in più Ah di nuovo Corsola Che palle Eh Contro Swampert Aspetta Vabbè Non ha senso Lui è più veloce Lui è più veloce Mi piace Ha puro gelo Prossimo Doflab Godmon Magari Magari Vediamo un pochettino Che Oh proteina Buono Ma troviamo Machamp Grande Danny Che probabilità Che probabilità c'era Che probabilità c'era Che dicevo Sta Sta cazzata Ma non è il nostro E quello è il problema Ce l'abbiamo contro Mi spaccano Mi spaccano gli occhi Di Corpish Veramente Ve lo giuro E io che cazzo devo fare Rega Io spero Tanto mi ammazza Oddio Sado Veramente questo No dai Non gli facciamo nulla Pure speciale Ce l'ha fatto No regala È immortale Ma io che cazzo Gli faccio A sto povero Cristo Veramente Ma che posso fare Io non posso fare niente Vabbè Dai sono morto Dai per il meme Per posto Cosa fa Vidro Ci aumentava La difesa Aspera Berris Naturalmente Naturalmente Solrock Purtroppo Non possiamo utilizzare Solrock Cioè non c'è Non c'è la sfida Di Solrock Ma veramente Sto usando Fissure Ma vaffanculo Sto matto Oh fuori 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 Pistrelino Pistrelino Tra quanto sta Chi non lo so Raga Abbiamo un pipino max Lo so Lo so Lo so Il pipino max È interessante Prito Però Naturalmente Non lo daremo A questo pokemon Perché Bro Voglio andare Voglio andare a casa Mamma Allora Intanto Ce lo prendiamo Il pipino max Flash Flash water Abbiamo un pochettino di cura Ah Un bel flauto Un repellente max Che è ottimo Per trovare il pokemon Solt all'otto Eh può essere destino Challenge 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 C'è l'unaton adesso Siamo in orario Potrei fare ragazzi La turbo sfida Potrei prendere Lui all'otto E vedere come è messo Al massimo Prendiamo L'altro Batti bro Non so Rock No Lunaton Dalle 5 All'una Lunaton All'otto No bro Aiuto Grande lunaton All'otto Sperando che sia buono Mi sembra già un poco lento Bro Bro Non ci credo Vabbè raga Niente lunaton Niente Mi anche provavo a catturare Ragazzi perché tanto Failano le palle Fino a tu non gli fai Un attacco di stato Qualcosa Non è che Bello Ma guarda Mi prendo il mio Surskit Surskit Con Oddio Ma se la pina iniziale Non sarebbe male Allora Io gli darei una quasi Una mad slappatina Però pur Sfitto Oddio 2x 7 di special Ma gli darei una Mad slappatina Se non siamo morti Oh no ci fa sky attack Siamo morti raga Siamo palesemente morti Siamo Decisamente morti Mi sa Che faremo Nella speranza Un altro mad slappino Ma siamo Godo 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 Ammissato Pursuit Pursuit Dai ammissato Godo Clamp Pursuit Nooo No raga Ce la stavamo Facendo Ce la stavamo Facendo Mancava Così Poco Mi fa piacere Per il signor Banana Ce l'abbiamo Sperato Da avanti Raga Oh 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 Non glielo do Non glielo do perché non so come crash Ho un tempo Ho un tempo buono per la confusione Luster Purge Interessante Psywave Non top E secret power Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Dai 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 Al posto di Super Sonic Sì Un po' troppa difesa Un po' troppa difesa Raga Però Però Ci accontentiamo Ci accontentiamo Bello veloce Mo' troviamo Snorlax nell'erba Quando usciamo così Sempre troviamo i pokemon OP Guardate Visto Visto Palese Palese Ma che cazzo lo dico a fare io Ma che minchia lo dico a fare Già qui c'è un giolto Nell'altra erba ci troveremo mia madre Provo Naiden su un allenatore Sì 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 No è secret power Non Naiden È secret power Sì no Sto pokemon Dai È buono Buona la special Abbiamo luster Purge Che è interessante Due curette Niente male Vorrei sinceramente Per luster Che comunque è buono Dello zinco La special defense Che è un po' bassa Io lo diamo Ma io ti continuerei con questo Regà Comunque cresce buono di special Un po' troppi Accapini Però dai Eh vabbè ma Non abbiamo Purtroppo Prima mossa a buio Ci inculano Dai Troppi HP Troppi HP Ma va bene Dai Infatti la difesa Sarà anche tanto Eh La special Bro Bro Ma che cazzo vuol dire No non le imparo Safe distract Non c'è più neanche la sfida Di fare Safe distract Da Brock No Cosa è un segno No 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 Full restore Oh Le cure ce le abbiamo Dai Mo' li siamo tutte Guarda Eccoci Punto Ti pare Eccoci qua Ma che cazzo devo fare ora Mo' c'è grande su casa suprema Proviamo Psywave Ok Ma è però ci ha addormentato Dai No bro Idro canno Guarda Mi dosare già la pozione Incredibile 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 Eh Cosa Ho messo L'attacco Oddio Siamo tutte qui Le cure Già lo sapevo Eh vabbè Eh ma porco Dio Che cazzo Che cazzo Andiamo avanti Però dai C'è Ragazzi Spendono la quarta Settimana Pallina Potrei fare Tredici Tredici Oddio Tredici Tredici Dispia Sanni dei Ok Dovremmo essere più veloci Ok E con Pallina siamo fuori Pallina è molto veloce Comunque Pallina è molto veloce Ma dove le trovi le canzoni 8 bit Oh sono bellissime Su Spotify Ce l'avrei visto Oh sono bellissime Era l'8 Era l'8 Ragazzi Non c'erano neanche le palle Eh non lo troveremo mai all'8 Perché all'8 c'è Banette Però uno scoutino ce lo facciamo Peccato Beh siamo al 7 comunque Cioè piglierlo al 6 Se è buono è buono Almeno siamo veloci Dai Lutino C'è lutino Oh Cosa stiamo cercando Ma penso un po' come migliore Che in realtà Ma non è mica male Il problema è che non abbiamo mosse E la prima ne impara a livello 10 Cioè abbiamo Skull Bash Che fa cagare di per sé Perché dobbiamo aspettare due turni E Shadow Punch Che vanno sull'attacco Ma noi abbiamo un attacco speciale Che è alto Eh non posso scappare E' alto il cazzo eh Eh mo lo ammazzo Mo lo posso ammazzare Eh mo lo posso ammazzare Eh Devo ammazzarlo Non posso scappare E niente E niente Mi rendete conto Contro un cazzo di Voltorb Di merda Ma io lo ammazzo Vaffanculo Direttamente Ma che cazzo Via Grazie per l'esperienza Non posso scappare Né niente Manca a provarci ogni volta C'ho solo pure la pozione dentro Il problema Che appunto Wailmer qua E' carino Per carità Però E mo con zero poco Ah me le compro Intanto stavo scoutando prima Cioè Mi devi catturare Dratini E' carino Troviamolo al tre Pure ma Minchia Potremmo fare la scalata Al milione Eccolo Non so n'idea Cosa c'è cucciolo Defense curl Defense curl Bro ma mi puoi fare Un'altra mossa Bella Tutto bene Cristo Raga Non ha attacco Non ha attacco Perché c'è pure Sunny Day Quindi è 50% In più Noi con 9 di specie Non ha attacco Speciale Vediamo il mud keep Dratini purtroppo Un po' peccato Un po' peccato Il fatto è che poi Altrente si evolve E il cucciolo si evolve In shellgon Potenzialmente O altaria Che non è male Ma ci arriverà Altrente il nostro Dratini Non fa danno Assemble It wave Ancora E' raga Ma c'ha Tutte Mosse Speciali E' niente E' Non ha attacco Speciale Il bro Il nostro piccolo bro Vorrei vedere Quei mud keep Andiamo un attimo Ancora Defense Curl Al 6 Ah Non imparamo Fino all'8 Si Ci sta E' rilassante Minchia Al recover Extra senso Ok Andiamo già Più attacco Speciale Del bro Needle arm Ok Me ne vado via Mud keep E' molto carino Come pokemon Si Molto 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 carino Ne voglio 12 Vediamo Dratini All'8 Un attimo Che c'ha Ancora Hit wave Ma 50 Si Ha tolto 6 Ok Hai imparato Faint attack Un'altra mossa Speciale Però ci ha fatto Ci ha fatto Un pochettino Di danno In più Raga il problema E' che non Ha Non ha Un attacco Speciale Sto dratini Perché non si Spiega come Fa Non farci Danno C'è Abbiamo 9 di Special Defense Raga E' bassa Un attacco Speciale Oh Cristo A 300 Di Sì Il problema Che si evolve A 40 30 30 Non ce Non ce Andiamo avanti E' quello Il problema Ad art X Di Che poi Inizia a ingranare Non lo so Però ce lo sta Provo buttando In faccia Sto dratini Raga Il fatto E' che Mi fa la quarta Mossa Tripla Fatica Si evolve O in Shelgon O in Altaria O in un altro Comunque sempre Drago Shelgon Vibrava Altaria Al 30 Eh ma il fatto Essendo a me Cioè Oh cazzo Eeeh Abbiamo trovato Ragazzi Quello Leggendario All'otto Blendino Lo prendo Blendino E sti Cazzini Minchia Entrato No raga Entrato Subito Lui Lui è Lele Mi è entrato Subito Se ti entra Subito Fa cagare Raga Avrà zero Di speed Sarà tutto HP Pisto merda Guarda 100 Guarda Speed Boost Raga Gli manca La stab Sì Vabbè Signor Banana Tu hai La moglie A botte piena La moglie Ubriaca Oppure L'amante Non è la stab Magari Vediamo che Swooch Il signal beam Non glielo toglie Nessuno Porca Troia Eh Ora siamo più Veloci Si è anche Confuso Eh Hitati No Eh vabbè Morto Dai Dai Più hai Esperienza Sale Mamma mia Mi ricorda Sandro Il nostro primo Sandro Peccato per la speed Veramente bassa Madonna Sarebbe già qui Ragazzi A fargli Signale Lo shottiamo Dovremmo shottare Con signal beam Eh Era molto Meglio Ubriaca Azz No La moglie Mi ha appena Fatto spendere 270 pounds Su quel cazzo Di sito di Ogors Per prendersi Gadget di Harry Potter Coglione io Che sono messo Quindi tua moglie Non ti fa regolare Le sub a me Ok No 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 vabbè Va bene Ti cazzerai poi con lei Quando non avrai Il grande regalo Non so se Faregli ragazzi Signal beam Perché ho paura Di spiegare la cura Cioè Abbiamo una Freshwater Cosa c'è qua dentro C'è sto Barry Ma secondo me Con signal beam Lo shottiamo Dai Non ci credo Oddio godo Dai 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 Mi devi crescere bene Di speed Il broski Dai lele Signor banale Non è un vero sigma Non va bene Ok cura Aspettate Sperano i carbos Qui nell'erba Che tro... Se troviamo ragazzi Dei carbos Max potion Buono Leafstone Vabbè dai Che il bro C'è va Aeroblast Comunque No raga Ma che cazzo Vuol dire Non posso scappare Eh ma infatti Ma vaffanculo Ma che vuole Minchia torna Io devo scappare No raga Non puoi avere 27 di speed Non so Non ci credo Non ci credo No vabbè Vaffanculo Come cazzo può essere Vabbè raga GG 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 Fanculo GG dai Ma che cazzo vuol dire Dai No no Scusatemi Come cazzo funziona La fuga Di sto gioco Di sto gioco Di merda 27 di speed 27 Ma non è la kaizo Rage vaffanculo Sì È la kaizo Come stai rage Scusami Non volevo Non volevo Non volevo rage Non volevo Sinceramente Scusami È la Non lo so È sindrome di Turetta Federic Cazzo facciamo Federic Adesso triste Perché mi ha alzato la voce No no rage Non volevo Rage non volevo Però No mi sa No raga aspetta No 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 Mi sta salendo un attimo E nervoso Aspetta aspetta No 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 Perché io Io ho perso una run Potenzialmente buona Per colpa Di una zoomarie di merda Trovata nell'erba Trovata nell'erba A zoomarie di merda Trovata nell'erba Ciao ragazzi Cosa ho lanciato? Cosa ho lanciato? Tum tum turu turu Tum turu tum Oh allora Giù Oh comunque Questo hunter È cucciolo eh Ma tipo siamo morti? Tail glow into Tail glow into Spark Oh no No non mi abbassare la precisione Bastardo Piedi sto spark Per fortuna ragazzi Abbiamo fatto il glow Sennò se ne abbiamo Sette spark Madonna al sei Ce l'abbiamo Ragazzi Ragazzi l'orologio mi ha detto Ci sei quasi Poi se siamo vicini Alla ran vincente Mi ha proprio detto Ci sei quasi Sta ancora vibrando Ma chi cazzo è? Mi sta spammando La mia ragazza Mi ha detto Bimbo sono incinta No Scusate No Bimbo io vado a nanna Va bene Dopo le do la buonanotte Allora io qua dentro Troverò adesso L'oggetto più bello Di tutto il gioco Una mental herb Eh a vincere una bella lega Regà Magari Cioè Allora Per me sarebbe ragazzi Una roba assurda Vincere la lega Perché comunque Sono un tier 4 Valutato tier 4 Vabbè Vabbè Diciamo Oh mio padre Io Non so se continuare con questo Hunter O meno Visto che abbiamo Comunque delle mosse Palesemente di merda E regà No Dragonair E regà Dragonair Eeeh E no Questo si deve prendere E questo si deve prendere E questo si deve prendere E questo si deve prendere A tutti i costi E me ha sen Troviamo quello senza Sandstream Tranquillo Non tutti ce l'hanno Vedi Questo qui ce l'ha ancora Troveriamo quello senza Questo ce l'ha ancora Minchia Era cross Vattene via Era cross Ma chi ti vuole C'è una blatta Questo c'è sandstream Ancora Perché vedi che Cioè Cioè Dovevo beccare quello Che non ha sandstream Quella lotto non ce l'hava Te lo dico Era cross Basta Potrebbe non esistere Qua c'è quella lotto E a sandstream No io ci credo Nel cuore delle carte Io lo trovo Senza sandstream Io lo troverò Senza sandstream Io lo troverò Senza sandstream Io lo troverò Senza sandstream Raga Non ci sarà mai Senza sandstream Vero Non ci sarà mai Senza sandstream Ora dobbiamo prenderci Dragonair Con sandstream Ci viene un dragonair Con sandstream Blind Via E tutto C'è Porca Madosca Ma manca Fa così Però Ma manca Fa così Ma non mi sembra Ma non mi sembra Il caso Mi sembra Veramente Veramente Eccessivo Un po' Meno Bro Manca Io mi sei detto Figlio di Buttana Assurdo I blind Blind Perché appunto Non vedremo più niente Siamo morti Snorrax Compound eyes Interessante Neri di watergun Abbiamo una special Bella alta Madonna Ma io cosa ti posso fare Cucciolo Ma io adesso che ti posso fare Io vado di earthquake Ma Niente Manco con quest Slip talk Praticamente Se dormiamo Il nostro pokemon Può attaccare Eh no ma Ha un attacco Veramente basso Vedi eh Ent Oh Arcanine Uh 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 No Però cos'è Sette di speed Bro ma ti manca Una zampa Palesemente Abbiamo per una cura No dai Però certo Mi faccio esplodere Qui Facciamo un fint Attac Nella speranza Del No siamo Morti Morti Qual è Qual è Ma shottati No Ente mi sa che Non hai capito Come funziona Dei controllare Il tracker giù Controllare il tracker giù Perché non era Non era molto efficace Dai Era Era Un Growlite Veramente Cowrinoz Eh non mi puoi dire Allora Fire Fire punch Scusami Non era buona Oh Polipone Allora No ma che cazzo è 6D speed 6D speed Ma che cazzo è 6D speed Ma se mo Eh appunto c'è Michael Jackson Per fare Mulmoo Work dietro Manco sludge Posso Che cazzo gli fa Devo sperare Boh No Siamo morti Morti Godo Ragazzero di speed Uno 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 Miracolo San Gennaro San Gennaro San Gennaro Non ho le palle Nel senso Non ho le pokeball Neanche Sono morto Sono morto Sono morto Ma però Non posso fare un cazzo E' quello Vediamo 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 Beh oddio abbiamo Raga abbiamo 21 di special defense Non è che Tipino up Sì no Sì no è sicuramente meglio questo Sì no è sicuramente meglio questo eh Voglio sentito Trovarlo a un buon livello Sperando di trovarlo all'otto Allora Mi esce Mamma mia se mi esce il PJ all'otto Raga Oh Di più perché potrebbe avere flash fire Capito Per quello Se ha flash fire ragazzi è carta Una bella cartina Però Sai No mi dispiacerebbe trovarlo A un livello decente Sì esatto Vabbè io Waterspout ragazzi Manco dal binocolo Ce l'ho E dai Cazzo Di bunda Dai Oh mio dio Magari Col flash fire Magari No Sbagliato Vabbè andiamo giù da mamma Allora Se mi capita anche al 6 Potenzialmente Proverò a catturare anche al 6 Però Diciamo Che Non avremo Tutta sta grandi Puoi essere un repellente volendo Non ce l'ho Non ho un repellente Dovrebbe nell'altra cittadina Quindi fare gli allenatori Per forza di cosa E non li posso comprare A market Non ci sono Oh Questo market Non li vende I repellenti Dai Ma soltanto a 5 Esiste Ragazzi il polletto è matto Quel pollo Matto Vedi nel bosco Vedi nel bosco No no Non mi interessa Nel bosco Beh potrei prendere Qualsiasi altro pokemon Scarso Che sia più veloce No no bro Io no Cristo Fammi andare via Anche se era 6 E poi Proverò a catturarlo Però Dovremo andare In un coso Prendere il primo blind Via Per gli oggetti Eh ma rischiamo di morirci No non ci voglio andare Rischiamo di morirci No Il pg è all'8 Lo catturo al 6 Regà Lo catturo al 6 Però esce al 6 Per favore C'è il pg è all'8 Allora Io lo voglio catturare Non perché Oh mio dio Un pokemon buono No Intanto vabbè È più veloce Di tentacruel Di base E seconda cosa ragazzi Perché se ha flash fire È una carta E so punti Buonanotte signor banana Buonanotte Io non ho parole Ragazzi Non ho io assolutamente parole Di dirvi Che Mi sa Che per stasera Io me do Io Basta Basta Per stasera Va bene così Vamos Ciao Ciao